ciao ragazzi sono chipster e benvenuti sul canale footitalia.it oggi piccolo vlog sul torneo appena concluso organizzato da footitalia.it torneo dove ha visto la partecipazione di molti top player top 100 della weekend league torneo veramente ad altissimo livello che ha visto trionfare pignone 993 veramente un player molto molto forte iniziamo subito col descrivere il primo turno il primo turno affronto spotty lollo è veramente un ottimo player ho vinto 2 a 1 ma è stata una partita molto sudata tant'è che vado sotto di un gol se non sbaglio se non ricordo male di sané poi riesco fortunatamente a pareggiare quasi subito e nel finale puntarla però è stata veramente una partita molto equilibrata veramente una partita cina soprattutto a centrocampo fortunatamente grazie appunto a gol di neymar nel finale mi sono portato sul 2 a 1 ho gestito gli ultimi minuti finali e l'ho portata diciamo a casa la seconda partita anch'essa molto difficile affronto tembius 7 anche lì player veramente molto forte riesco a vincere anche questa partita 2 a 1 molto simile a questa quella precedente con l'unica differenza che vado diciamo in vantaggio 1 a 0 poi il 2 a 0 gestisco nei minuti finali però il mio avversario accorcia le distanze sul calcio di rigore intorno all'ottantatresimo se non ricordo male però riesco appunto a portare a casa anche questi ottavi di finale ai quarti affonto ti hero 17 anche lui un ottimo ottimo player è inutile dirlo appunto hanno partecipato veramente tanti player importanti tant'è che appunto questo è sono siamo già appunto ai quarti di finale dove il livello sicuramente si è alzato riesco a vincere anche questa partita 2 a 0 e così volare in finale e affrontare ssc mai una gioia semifinale appunto disputata veramente bene da entrambi player la prima la vinco io la seconda la vince il mio avversario la terza la bella la vinco io ricordo queste partite sono disponibili sia le semifinali che la finali sempre sul canale fut italia punto it perché c'è stata la live appunto quindi le avete viste anche in diretta per chi c'era e sono appunto le immagini che state vedendo in questo video anche il mio avversario riesce il mio futuro diciamo avversario riesce a vincere entrambe le partite a volare prima di me in finale io riesco a spuntarla grazie al 3 a 1 e soprattutto a di gianini nel finale della terza partita la cosiddetta bella e poi appunto affrontare pignone in finale la finale contro pignone la prima partita purtroppo i primi 30 40 minuti andava molto molto a scatti laggava veramente tanto vado sotto subito 2 a 0 nel primo tempo più del primo tempo con parziale di 2 a 0 per il mio avversario nel secondo tempo riesco ad accorciare le distanze prima con ronalde poi a pareggiare con una grande bella azione di gol di sala azione magistrale tra di gianini ronaldino e sala andiamo ai supplementari non succede praticamente nulla di eclatante tranne un calcio d'angolo mio al 120esimo colpo di testa fuori ma niente di più ai rigori purtroppo ho la peggio il mio avversario mi para se non sbaglio 3 2 o 3 rigori le ne paro solo uno e alla fine risultato se non sbaglio di qua di 3 a 2 o 4 a 2 ai rigori e quindi perdo la prima partita rigori con tutta la pressione del caso inizio la seconda partita finisco di nuovo il primo tempo se non sbaglio il primo tempo sul 2 a 0 con doppietta di cantè mio avversario era molto bravo e molto forte a far segnare i centrocampisti centrali conosco molto bene pignone 993 perché ci siamo riscaldati prima del torneo mercoledì prima del torneo anche martedì quindi è stata conoscevo diciamo il suo modo di giocare nella prima partita oggi nati sui centrocampisti nella seconda purtroppo due distrazioni ma hanno costretto hanno costretto appunto a prendere due gol successivamente si inizia il secondo tempo provo a spingere di più per accorciare le distanze ma proprio spingendo di più prendo il terzo gol da qui la partita ormai si fa in salita faccio i cambi provo diciamo a cambiare un po lo stile di gioco riesco ad andare sul 3 a 1 a prendere anche una traversa sul calcio d'angolo che mi avrebbe consentito nelle fasi finali comunque un 3 a 2 quindi un pressing più forzennato però alla fine è giusto così ha vinto secondo me anche il migliore perché veramente ripeto un ottimo avversario tant'è che è finito parecchie volte in top 100 quest'anno quindi chi è su guan sicuramente potrà riconoscere il suo nome vedendolo appunto in top 100 parecchie volte erano due squadre anche attrezzate benissimo io sono lo startato con un 4 ho startato con 4 4 2 poi modificato nel 4 2 3 1 con corto è in porta poi portato si importa rd tozzi informa poi a destra walker tots a spiliqueta rosso totti red tots sarebbe ferdinand prime a sinistra young tots in mediana avevo gulli che dirà prime ma a destra sala potum no a destra neymar tots red tots c'è cc pelè a sinistra sala in po e punta ronaldo le istruzioni le tattiche comunque le trovate anche su questo canale ho fatto precedentemente vi precedentemente proprio video sui moduli ragazzi questo è un piccolo vlog veramente su un torneo bellissimo mi sono divertito tantissimo vi ricordo che uscirà inizieranno le iscrizioni anche per il torneo su play 4 mi raccomando seguite il gruppo fut italia punto it tutti i link comunque sono in descrizione spero che tutti i partecipanti si siano divertiti in questo torneo vi aspetto numerosi in tanti altri tornei che organizzeremo complimenti a tutto lo staff di fut italia punto it per aver gestito e seguito al meglio questo torneo averci regalato anche una bella diretta live delle semifinali e delle finali ciao amici alla prossima